Siamo con Matteo Berti della Berti Pavimenti in Legno, un'azienda tutta italiana, famosa però anche all'estero, per i suoi pavimenti in parquet. Sì, Berti compie 40 anni, è italianissima, nasce a Villa del Conte in provincia di Padova, proprio quest'anno l'azienda fa 40 anni di attività, attività nel settore dei pavimenti in legno, che variano dagli intarsi ai parquet personalizzati fino ad arrivare ai parquet contemporanei, quelli che usiamo tutti i giorni. Abbiamo visto una grande scelta, un grande studio nelle linee più classiche, ma anche nelle nuove tendenze contemporanee che regolano un pochino le architetture d'arredo. Sicuramente ricerca e sviluppo è una delle attività primarie in azienda, Berti si occupa di promuovere e ricercare sempre novità contemporanee con il gusto e con la tendenza dell'arredamento. Io so, perché ho fatto una piccola ricerca su di voi, che nonostante l'azienda Berti appunto sia tutta italiana, all'estero si cammina sui vostri pavimenti, anche in alcuni palazzi molto importanti del mondo, come il Cremlino e la Villa dei Windsor in Inghilterra. Sì, grazie a una tecnologia che abbiamo sperimentato circa 25 anni fa, laser applicato al legno, si creano degli intarsi e appunto si ha la possibilità di avere un disegno personalizzato, contenente non solo legno ma anche altri materiali. Questo rende esclusivo il lavoro, il pavimento di chi cerca motivi ornamentali come l'intarsi. Infatti vediamo qui alle nostre spalle delle placche di parquet, mi corregga se sbaglio il signor Matteo, delle placche di parquet con dell'intarsi in metallo. Questa è una richiesta che arriva principalmente dall'Arabia Saudita e stiamo cercando di sviluppare per quel mercato là. Il metallo e il legno, un abbinamento insolito ma sicuramente di grande valore estetico. Un'altra nostra ambizione è quella di poter utilizzare il legno non solo per pavimenti ma anche per pareti. Da lì nasce l'idea poi dell'illuminazione. C'è la possibilità di creare delle fonti luminose personalizzate sempre, perché il nostro motto è Sprecio Style, quindi esprimi il tuo stile. Sulla base di questo proponiamo di personalizzare pavimenti e pareti. Pareti in questo caso con la possibilità di illuminare con delle luci LED di ultima tecnologia RGB. Questo è un esperimento nuovissimo che stiamo cercando di proporre in primis in fiera. e la possibilità di avere una fonte luminosa diciamo quasi a filo del parquet. Si utilizza un plex, un plex che nel suo interno contiene questi LED che sono radiocomandabili e quindi con la possibilità di creare anche effetti luminosi a spazio zero se vogliamo. All'interno di Berti, Berti Studio, che diciamo è la falange più contemporanea che si dedica alle tendenze e qui vediamo delle soluzioni di parquet veramente molto interessanti. Si, Berti Studio è la linea giovane, la linea che si occupa di colore, quindi di trattamenti e anche in questo caso possono essere su richiesta del progettista o del cliente. Sono trattamenti che variano dallo sbiancato al naturalizzato fino ad arrivare ai colori più sgargianti che possono essere richiesti per arredamenti molto particolari. Per spazi antichi o per spazi contemporanei qui da Berti c'è sempre la soluzione giusta, anche in queste lavorazioni che sono assolutamente classiche. Sì, qui parliamo di prefinito, in questo caso, in questo espositore, dove i prefiniti di gusto piuttosto classico, anche se con un occhio molto contemporaneo perché attenti alla tecnologia, alle nuove certificazioni e tutto quello che permette a questo tipo di prodotto di entrare negli spazi abiti attivi più esigenti. Questo è un prodotto che può essere posato su qualsiasi pavimento esistente, quindi ha anche una facilità e una praticità di posa molto conveniente. Come si dice in Berti, qual è il nostro claim? Express, your style!